Taglio del nastro questa mattina alla Santissima Annunziata di Chieti per la riapertura del blocco operatorio del nosocomio teatino attivato nel lontano 1996 e senza aggiornamenti per oltre 25 anni. Da oggi l'ospedale di Chieti potrà dunque contare su nuovi spazi e nuove tecnologie. I lavori sono costati 600 mila euro mentre le nuove apparecchiature elettromedicali 350 mila euro. Investiti oltre 12 milioni di euro dalla regione per il noleggio quinquennale del sistema robotico da Vinci per chirurgia e urologia. Verranno investiti prossimamente altri 2 milioni e mezzo di euro per il potenziamento del reparto. Sono 25 anni che questa grande realtà importante del nostro presidio ospedaliero del nostro policlinico della ALS02 non riceveva nessuna ristrutturazione. in poco tempo impegnando fondi energie attraverso una ristrutturazione da un punto di vista logistico ma soprattutto attraverso un'innovazione tecnologica abbiamo dato la possibilità di portare avanti un progetto fondamentale e oggi con questa inaugurazione non facciamo altro che determinare un primo punto di quello che è un grande progetto innovativo del nostro policlinico che vedrà ulteriore riorganizzazione, ulteriori investimenti con un cronoprogramma a breve partendo da tutta quella che è la ristrutturazione del policlinico per poi passare immediatamente all'organizzazione dei parcheggi ma soprattutto investimenti in poco tempo di alta tecnologia. Si sale già operative. Oggi avremmo dovuto visitare una sala dove in funzione un robot all'avanguardia non lo possiamo visitare perché è già operativa. Presidente Marsiglio come si suol dire è questa la buona sanità? Esattamente è sconvolgente pensare che in 25 anni questa ASL ha avuto a disposizione complessivamente almeno 20 miliardi di euro in 25 anni non ha speso un milione per ammodernare queste sale, per fare del blocco operatorio qualche cosa di efficiente, di tecnologicamente avanzato. Noi stiamo restituendo dignità e decoro a questo ospedale soprattutto lo stiamo restituendo ai cittadini abruzzesi che qui devono essere operati e devono essere operati in sicurezza con tecnologie all'avanguardia come merita ogni cittadino in qualunque parte d'Italia e del mondo e come purtroppo non accadeva in alcune parti almeno dell'Abruzzo per incuria, superficialità.